Sì, padrona? Eh, fa bene la spiritosa che è. Sì, la spiritosa. Eh, chi è io? Ma che, che, che la smettete di becchettare? Oh, guarda, è lei che la mi provoca, sono io. No, tu sei lei che tu gli rispondi male. Ah sì, eh? Allora, sia bene, siamo noi qui per l'eredità e voi puoi essere qui a becchettare tra di voi. Pena è voi, no? Oh, bravo, ma che, che avvisi che c'è intorno alla vita? Non avvisi che c'è, mi chiede fare il giardino dei poveri, è una bellezza. Ci sarà un valore di 40 milioni di euro. 40 milioni di euro? Mi fanno i poveri di sia. Ma ci, 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 ci ripensi di 10 milioni di euro a anni poveri. 10 milioni di euro. Escolto. Pregioni, eh, la Giorgetta è la riva più tardi. È la riva più tardi, Fran? Sicuramente è tardare, non è da lei, eh? O se, Galino, fai quella lettura del testamento? Come si sta? Oh, no, no, stai tranquillo. Per la lettura del testamento la c'è destra per forza, eh. Un po' fai, fai o no? Un po' fai ora, da avere la nostra, fai, fai, fai per le proprietà, eh. Comprere una casa tuttutu tutta roba e io, com-co-comprerò una Ferrari tuttutu tutta rossa, con i peni, i potpostelle, le maniglie tuttutututu tuttututututututututututututu. Ah, io no, eh? Io, lo sapete che? Io sono come la cazzaladra, a me li ha fatto sto vedendo le luci.